Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, nubi irregolari con acquazioni intermittenti. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo, con cieli sereni.